Nooo! Devo ammettere, ma sono ufficiali, non ufficiali, potremmo fare ufficiali alla Cina, però non ufficiali, ma se qualcuno di voi vuol fare un discorso ufficiali, dobbiamo ammettere che siamo stati molto soddisfatti della scelta che abbiamo fatto. Nonostante il corso fosse abbastanza tosto, come a dire che gli allievi sono comportati all'altezza delle famiglie, siamo veramente contenti, veramente contenti. E' viva! 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 Grazie a tutti